La 23esima edizione del Consorzio Nero di Troia, un vitigno ormai conosciuto in tutto il mondo, c'è ancora da lavorare oppure siamo a buon punto? La nostra mission è quella di informare i consumatori sempre di più di quello che sono i consumi del vino Nero di Troia. Informare significa, attraverso il disciplinare del Consorzio D'Occitavoliero del Nero di Troia, dire quali sono le caratteristiche che chiaramente si differenziano da altri vitigni e chiaramente anche dalle altre modalità di valorizzazione del prodotto. Quindi la nostra mission è quella di promuovere, tutelare e valorizzare il Nero di Troia, ma soprattutto quello di informare. Informare i consumatori significa farlo sempre, lo facciamo anche stasera attraverso una degustazione, una lezione guidata di degustazione del Nero di Troia proprio per valutare come e informare il consumatore di come bisogna bere il Nero di Troia, gli abbinamenti e soprattutto le caratteristiche. Quindi non è finita qui.